salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ci troviamo qua a parlare ancora del marchio hexa questo marchio che produce soprattutto cuffie e ne produce di svariati modelli produce anche mouse come vedete qua che ha come punto di forza il rapporto qualità prezzo perché ci danno veramente delle cuffie di altissima qualità con prezzi davvero davvero competitivi ho portato già qua sul canale vari tipi di cuffie da quelle wireless a questo modello qua col cavo cioè veramente vari cuffie della exa lo portate qua sul canale e ragazzi sono davvero una meglio dell'altra ma oggi ci ritroviamo qua a parlare di exa perché exa in questo momento sta facendo delle offerte combo cosa vuol dire combo che fa delle offerte a pacchetti quindi in questo caso questa offerta combo che trovate nel loro sito exa sono gli auricolari cobra wireless con il mouse gaming e m100 ragazzi questa combo di costa nel loro sito ufficiale exa 44 euro capite che due prodotti di questo tipo a 44 euro sono tanta tanta roba perché perché ragazzi parliamo di cuffiette con doppio profilo d'ascolto cioè loro nascono come cuffie gaming ma hanno anche il profilo musica quindi andando a switchare facendo doppio tap sulle cuffiette potremo switchare dalla modalità gaming alla modalità musica quindi lei in automatico si imposterà con i profili dedicati appunto al gaming o alla musica ovviamente poi possiamo anche rispondere alle chiamate possiamo fare quello che fanno tutte le cuffiette però il suo punto di forza è sicuramente la possibilità di avere due profili di cui uno gaming e uno musica e il mouse ragazzi è anche lui molto molto interessante soprattutto in questa combo a 44 euro ma tra poco vi faccio vedere tutto da vicino e in più c'è una novità da parte di exa che adesso è disponibile come marchio venduto direttamente da exa su amazon quindi loro hanno uno store all'interno di amazon dove ci sono tantissimi dei loro prodotti non ci sono tutti quelli che troviamo all'interno del loro sito ufficiale però ce ne sono comunque tanti quindi chi adesso volesse acquistare un prodotto exa non direttamente dal loro sito ufficiale cioè quello chiamiamolo così cinese cioè perché il prodotto viene spedito dalla cina ma lo voglia acquistare da amazon per averlo prima per avere tutte le garanzie di amazon perché il prodotto è venduto da exa ma spedito da amazon quindi avete tutte le garanzie cliente date da amazon adesso abbiamo anche questa possibilità allora andiamo a vedere da vicino loro queste gt1 wireless questi auricolari ragazzi che sicuramente sono davvero molto interessanti allora la confezione è già tanta roba perché è davvero ben fatta molto curata infatti troviamo questa scatoletta con apertura magnetica che a me piace un sacco le scatolette con apertura magnetica perché le rende molto più fini e sono molto più curate soprattutto se le dobbiamo regalare poi troviamo subito il cofanetto che contiene gli auricolari poi troviamo un cavo di ricarica perché comunque loro vanno ricaricate con un cavetto type c che poi andrà a ricaricare ovviamente il cofanetto che contiene gli auricolari dopodiché gli auricolari si ricaricano dal cofanetto poi andando a sollevare il cartoncino troviamo il manuale di istruzioni davvero molto semplice ma molto utile perché è molto utile perché questi auricolari ovviamente hanno la funzione touch cosa vuol dire che andando a fare dei tappe sugli auricolari cambieremo le modalità potremmo mettere in pausa e spegnere gli auricolari quindi tutte queste cose che dobbiamo fare usando il touch che c'è sopra agli auricolari quindi questo ragazzi diventa molto molto utile allora andiamo a vedere da vicino come sono questi auricolari gt1 della hexa allora loro si configurano in maniera semplicissima con lo smartphone non basta andare a tirare fuori dalla confezione vedete che si sono già accesi basterà andare ad accendere lo smartphone entrare nelle impostazioni bluetooth fare la ricerca una volta che vi appare hexa gt1 associate e siete già pronti ad utilizzarli qua sopra come vi ho detto abbiamo il touch cosa vuol dire che andando a fare doppio tap passeremo dalla modalità gaming alla modalità musica rifacendo doppio tap passeremo dalla modalità musica al modalità gaming quindi in un attimo abbiamo questo passaggio di profilo in cui loro si imposteranno con le caratteristiche più adatte alla musica che al gaming poi le loro caratteristiche principali sono sicuramente 38 millisecondo di latenza che ovviamente per l'utilizzo gaming diventano davvero davvero importanti perché ovviamente per la musica non importa ma per il gaming la latenza è davvero importante loro hanno davvero questa latenza molto molto bassa hanno la riduzione del rumore usano il bluetooth 5.0 e sono impermeabili impermeabili cosa vuol dire che se gli arrivano degli schizzi o piovigina quando magari andiamo a correre o cose di questo tipo loro non hanno nessunissimo problema la loro autonomia è di circa sei ore di utilizzo continuo ma che poi diventano 30 ore con le ricariche che possiamo fare utilizzando appunto il suo cofanetto di trasporto e poi qua davanti vedete abbiamo questi led sia da una parte che dall'altra perché comunque sono distinte diciamo le due cuffiette a livello di ricarica che ci danno appunto la quantità di ricarica che abbiamo nella scatoletta purtroppo una cosa difficoltosa nel recensire cuffie o auricolari come in questo caso è comunque che non posso condividere con voi direttamente quello che sento quindi sono solo le mie sensazioni e vi posso dire che valgono sicuramente il prezzo che si pagano nel senso che comunque al prezzo che vi vengono date valgono probabilmente di più ve lo posso garantire quello assolutamente sì però ovviamente non posso trasmettervi direttamente quello che sento quindi è inutile che mi metto qua me le metto a fare tanto voi non potete sentire lo stesso ed è questa una cosa brutta nelle recensire prodotti di questo tipo che vi posso dire tante cose ma vi dovete fidare di quello che vi dico non posso mostrarvelo direttamente soprattutto certe cose poi sono soggettive nell'ascolto quindi è veramente difficile portare prodotti che siano cuffie o auricolari e come recensione davvero davvero dovete fidare delle parole di chi fa la recensione quindi ragazzi capite che a 44 euro sono davvero molto interessanti soprattutto in combo con lui il mouse ragazzi e m100 un mouse con il filo quindi non è wireless ha il filo in questa similcorda che è molto comodo perché ovviamente non si arriccia non si impiglia è morbido quindi comodissimo vedete qua ragazzi tutta la serie di led rgb che possiamo andare a modificare cliccando il tastino qua sopra cliccando questo tasto vedete cambiamo i colori del mouse e anche diciamo gli effetti che hanno questi led rgb fino al punto che li possiamo anche spegnere quindi non siamo obbligati a avere l'illuminazione rgb qua abbiamo il tasto dpi che va a regolare la sensibilità quindi potremmo aumentare diminuire la sensibilità del mouse direttamente da questo tasto poi abbiamo la classica rotella per scorrere che è anche un tasto poi abbiamo il tasto destro poi ovviamente abbiamo il classico tasto destro tasto sinistro e qua ragazzi abbiamo due tasti sul fianco dove abbiamo il pollice e quindi ragazzi anche questo prodotto è incredibile perché a 44 euro questa offerta combo è pazzesca ovviamente magari a qualcuno potrebbe non interessare il mouse solo gli auricolari ma a questo prezzo ragazzi questo ve lo tenete a casa e prima può vivere a buono o se no lo regalate se non vi interessa il mouse da gaming anche se poi ragazzi con il led spento è un mouse normalissimo che funziona pure molto molto bene io l'ho provato su varie superfici e devo dire che non ho riscontrato nessuna difficoltà praticamente su qualsiasi superficie in cui l'ho utilizzato mi sono trovato davvero davvero bene quindi ragazzi questi due prodotti in accoppiata come vi ho detto in questo momento in offerta 44 euro direttamente nello store exa quindi direttamente dal produttore mentre se volete altri prodotti exa tra quelli che magari ho già portato anche qua sul canale e acquistare da amazon adesso è possibile fare anche questo quindi direttamente su amazon cercate exa e guardatevi tutti i prodotti che sono disponibili nel loro store ufficiale come vi ho detto non ci sono tutti quelli che ci sono direttamente nel loro sito tipo questi auricolari gt1 attualmente non ci sono poi probabilmente tutti i prodotti arriveranno anche su amazon perché comunque questo store su amazon è appena stato aperto e quindi probabilmente loro vogliono prima vedere come va prima magari di andare a caricare troppo quello che è la loro vendita su amazon quindi ragazzi se questo mio video in cui vi ho portato questa offerta combo di exa gli auricolari gt1 e il bouse m100 a 44 euro vi è piaciuto vi è stato utile avete trovato interessante le caratteristiche e le mie opinioni riguardante le exa gt1 lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram e porto tante novità anteprime voli in fpv spoiler di quello che arriva qua sul canale erano arrivati spoiler anche di questi prodotti sempre se vi va iscrivetevi al mio canale 3 come offerte per sostegno a questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante la tecnologia e i droni sicuramente arriveranno sul mio canale 3 come offerte anche i prodotti exa magari con qualche coupon sconto ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdetevi anche un video un volo una recensione un test un tutorial una novità ciao e al prossimo video